Buonasera a tutti, mi chiamo Maida Maria Teresa, ho 13 anni e frequento la terza media. Le mie passioni sono due, suonare la chitarra e ballare. Pratico danza classica da 8 anni alla Airside Dance Studios e ho scoperto che suonare la chitarra è un modo, diciamo, per esprimere anche le mie passioni e i miei sentimenti. Ho scoperto che grazie alla musica, diciamo, ti aiuta molto nel carattere e nella vita e arrivederci a tutti!